Continuano a circolare numerose voci su, che da un po' di tempo è entrato ufficialmente in crisi con la bellissima showgirl argentina, Belen Rodriguez. Si trova nella sua città, Napoli, e molti pensano che stia conquistando già numerosi cuori di altre ragazze. E a apostrofo Made in Sud ci sarebbe stata una sorta di svolta. Come riferito dal giornalettismo e dal giornalista Gabriele Parpiglia, ci sarebbero due giovani, una bionda ed una mora, in lizza per lui. E la bionda potrebbe essere proprio colei che è state paparazzata insieme al ballerino campano. Al momento si sa che le due possibili pretendenti si chiamano Maria e Sara. La prima ragazza è stata scambiata per l'ex ballerina Maria Rosaria e quest'ultima è stata costretta a smentire tutti i rumori saffermando che non ci sia nulla con Stefano. Continua dopo la foto. Si tratterebbe invece sempre di una ballerina, ma che fa parte del corpo di ballo del programma della Rai. Il settimanale nuovo ha invece pizzicato De Martino a bordo di una barca proprio in compagnia di questa ragazza bionda, che per ora non si sa ancora chi sia. In esclusiva ha postato sul profilo Instagram l'istantanea. Che sarà sul giornale in edicola domani, giovedì 2 luglio. Il primo piano è intitolato. De Martino prende il largo con una bionda. Continua dopo la foto. Non sappiamo comunque con esattezza se sull'imbarcazione fossero presenti altre persone o solamente loro due. Potrebbe essere semplicemente una sua carissima amica, ma nulla può essere escluso. Stefano resta ancora in silenzio, dunque è complicato riuscire a captare qualche ufficialità. Non resta che aspettare i prossimi giorni per capirne di più. Infatti, se sarà davvero un suo nuovo amore. Potrebbe pure vuotare il sacco ed annunciarlo in modo ufficiale. Continua dopo la foto. Gabriele Parpiglia ha inoltre pubblicato su Giornalettismo un lunghissimo approfondimento tutto dedicato a e alle sue molte fiamme. Niente di irriverente. Solo la pura e semplice verità. Che dribbla la stoica privacy dell'ex ballerino di Amici di Maria De Filippi. I nomi che si susseguono sono parecchi. Maria, Gilda, meno top secret delle altre, Cristina, Giorgia, ancora e ancora. Davvero una lista infinita. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.